Sì, allora c'è una rotatoria. Guarda che cosa è un gioco, perché fai i bai? E' stato un bravo! Questo è un'attenzione positiva, è un'altra scoccia. Guarda che ci vanno, non so, non è l'inizio, ci vanno gli atleti, gli atleti, gli atleti, gli attori, gli attori... E' un'attenzione positiva. E' un'attenzione positiva. E' un'attenzione positiva. Mi dici, mi sta passando per favore che la ti stiamo nel collo? In più da 200 tonnelli. In più da 200 tonnelli. E' un'attenzione positiva. E' un'attenzione positiva. L'hai visto? No, ma ne ho sentito. Ma forse è l'attenzione positiva. Non quello che senti. Ma forse è l'attenzione positiva. Ma lo senti, pure tu? Ma andiamo qui, questo rumore pensava che era la macchina, che doveva scattare. Chi sta passando adesso? Una pacca a te. Si, una buona pacca a te. E' però te l'aveva detto! C'era nuca la potenza. No, ma andiamo in giocazioneloni. Ma mi è stato apportato. E' un'attenzione, che cosa davvero è fatta. Si, e' un attengo a te. E' un attimo. E' da un attimo.